Dovrei giocare a red ma non c'è voglia Per quanto blue non sia male Però red è semplicemente meglio perché hanno Ione melee, Noctur melee, Akali, Sword of melee Midem Samira Quindi con red è facile picchiarli È facile prendere healing, è facile prendere troppo danno Invece con kain posso shottare qualcuno di loro Però lo sai, vabbè vediamo vediamo Ok ok, l'antino sta bene Ora a scuola Oggi ho detto che prima di partire avrei comprato una bustina di carte Se volete finanziare il tutto con Amazon Prime Oggi siamo senza siedere, benvenuti Grazie per il sub Grazie foreman E prendi questa bustina Lo farò grazie Poi se esageriamo con i sub eventualmente possiamo addirittura Optare per un mazzo di carte Pokémon Anche perché l'antino ha il mazzo nuovo di me tu Nuovo relativamente nuovo Ed è impossibile batterla col mio Le sue carte sono broken Le sue carte con un'energia, non so 60-70 danni, 90 danni Le mie 3 energie forse 70 e c'è pure il malus Grazie Flamingo di venti Grazie per l'istante Ma quando mai hai partito? Non vinci perché inti tanto cuore Ah non vinco perché inti, è assolutamente vero Flamingo Sono al 100% Dai dai però Non sapevo del 100% Beh si brucia insieme no qua Cioè in realtà l'ha presso brutta la wave 20 secondi e i Golem Li vogliamo aspettare E direi che le aspettiamo i Golem 13 Ci sta il tempo che andiamo top Uh solo ballo di Yasuo Dai Vand rimane in vita Ok Non è il classico Yasuo Potrebbe essere il mio Yasuo quello lì eh Resitiamo Ma live train ragazzi Non è mai partito stamattina Vergognatevi Non è ancora partita una win Ok ok Fair enough Good point Ci sta In effetti non so quanto Meritato È pazza essa mira Oh vai Ma bene così Abbiamo preso un po' di stack Poggers Oh no E no Poggers Non è venuto Nocturne E come mai non è venuto Ha perso visione eh Meglio per noi immagino Bene Anche se eravamo pericolosamente vicino al Prower Anche aspettare Riesco a rubare questo Poverino Entrambi i campi La vita è pesantuccio Questo fa male dappertutto Anche l'orgoglio L'abbiamo trovato Purtroppo È andata così Signor notturno Capita Ora devemo Ione Che voleva aiutare il ciamico Così impara a aiutare il ciamico Vabbè exhaust questo Questo è ancora exhaust questo Non approvava la mia scelta Non approvava la mia scelta Dovrebbe essere albre Vino Nocturne Mid o bot Dove secondo voi Mid Trapingato Poi si provoca la cosa tra le gambe Senza ho provato a contestare Rubarsi un mine Grazie Drago potremmo Ma c'è fretta Imperdibile Imperdibile Qualisamente No La mia kill Ricordiamo un attimo Abbiamo un po' di soldi Abbiamo Guarda Affortunatamente Si è dato qualcosa Rakan criticato Ma io sono Quei Che dici Ma Non ci pensi Arrivare Va bene Si parla ancora Di postare i golem Forse Criticato Rakan Per il suo Essere un support Beh Non posso che Condividere Questo Questo point of view E' da un po' Che ci aspettava Questo drago Stava pure Ennoiando Si stava Igo Mi spiace Se le si è presa Alla fine Just trying my best E' diventata L'intera gang La minaccia Dio suo Grazie per gli stab Mi faccio Dei dare Ma che rola Mi prendo pure La voi Mi prendo No 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 Prince 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 Mi faccio E' riportato Cacchi però ho perso la Jay così con un maiale Non ci voleva che si stava giocando male Anche lei è Jay Ah no questo è stop Non so perchè non mi era accorto Sempre il rumore Ma però ma stai trollando Ma guarda dove sei andato Ma chiudami Guarda dove sei andato maialino Io tilterebbe per come rispondo Ma infatti li sto triggerando Cioè non lo farei se stessi trigger dando Solo che Cioè non tastere nemmeno così tanto Oddio dipende da dove mi trovo sempre ovviamente Però mi diverte a spizzicarli Hanno parzialmente ragione Anche se le piene potrebbero anche semplicemente accettare il fatto Che questo game Ebbè ho preso qualche risorsa Ma non mi pare che io stia trollando Potrebbero accettare il compromesso Vabbè Venendo la way però Stiamo comunque facendo un ottimo lavoro Overhaul Gigi gigi Dai Però sono super polemici Un po' per malosetti forse questi Fronte unito, sì Vabbè, alla fine guarda Comunque abbiamo creato una sorta di questione Cioè, erano uniti nel flame Nel senso Ragazzi, temo che non riceverò nessun onore a sto giro Temo che non verrò onorato nonostante la performance Pensa, pensa Immagina fossero napoletane Allora sarebbe poi amplificata anche questa situazione Oh no! 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 Grazie a tutti.